L'amministrazione comunale di Vittoria taglia pesantemente i fondi destinati a garantire i servizi di turnazione e reperibilità alla direzione di Polizia Municipale e il segretario provinciale dell'UGL Federazione delle Autonomie di Ragusa Aldo Caruso insieme a Davide Noto e il RSU al Comune di Vittoria decidono di scrivere al sindaco Giuseppe Nicosia per sapere quale sia stata l'arrazzo che ha portato l'amministrazione a decurtare pesantemente i fondi destinati alla direzione di Polizia Municipale. E' quantomeno anacronistico di Geraldo Caruso che proprio oggi che la città necessita di una maggiore attenzione sul piano della sicurezza urbana l'amministrazione operi un taglio pesantissimo che di fatto comporterà una rimodulazione dei servizi in termini di minori possibilità di intervento e di copertura territoriale. Quello che è il primo presidio di sicurezza cittadina andrebbe al contrario potenziato e reso ancora più efficiente e se proprio non fosse possibile destinare alla direzione di PM più fondi, quantomeno non si dovrebbe prevedere ulteriori ingiustificati tagli. La critica applicazione di principi contabili, aggiunge Davide Noto, fatta sulle spalle di chi opera in un settore delicato come quello della sicurezza urbana, non è solo un errore ma anche una grave assunzione di responsabilità nei confronti di chi giornalmente opera già in costante carenza di risorse e anche dei cittadini che vedranno obbligatoriamente ridurre la presenza di uomini e mezzi della Polizia Municipale sul territorio. Negli ultimi cinque anni, prosegue Noto, l'azione capillare degli uomini e delle donne del corpo di Polizia Municipale di Contrada Fanello ha fatto sì che le infrazioni al codice della strada si riducessero portando il livello di infortunistica stradale, specie quella con esiti gravi o mortali, ai minimi storici nella città.